Questa mattina una cosa che sento da qualche settimana, nel mio cuore Pietro e Fabiana si dovrebbero ricordare una prima che iniziasse l'emergenza del covid, stavamo facendo il connection a casa sua, eravamo io, mia moglie, Pietro, la famiglia, Bradu, e ho ricevuto da parte del Signore che stava per accadere qualcosa. Non so se vi ricordate questa parola, dice sbrigatevi perché c'è qualcosa che sta per accadere velocemente e dopo una settimana, insomma, è venuta fuori l'emergenza, tutti siamo stati l'inchiusi nelle nostre case, bene, ha da dieci giorni che lo Spirito Santo mi fa sentire una cosa molto forte. Questo non deve mettervi paura ma dobbiamo ovviamente avere i nostri canali aperti perché sento nel mio cuore come se Dio sta per fare qualcosa velocemente, di tenerci stretti a Lui. Perché è come se dovesse venire un alluvione, non so se avete visto in questo periodo ci sono stati alluvioni in diverse parti della Nazione dell'Italia ma anche fuori l'Italia dove ci sono stati grandi danni, acqua che scorreva, si portava via le macchine, anche a Palermo è successo questo, montagne che sono state di terra, che sono state spostate, case. Dobbiamo stare attenti perché credo che questo è un tempo di scuotimento dove Dio sta scuotendo la terra, sta scuotendo anche i cieli ma quello che non potrà essere mai scosso è il suo regno. Per questo è importante che rimaniamo come figli, rimaniamo aggrappati, attaccati al suo regno e che possiamo avere una costante comunione con Lui perché prima che arrivi qualsiasi cosa lo Spirito Santo ci avviserà. E non saremo colti di sorpresa, non saremo presi dalla paura, dall'angoscia, dal terrore ma siamo fiduciosi perché lo Spirito Santo prima che le cose accadono Lui ci avvisa e Lui ci sta avvisando di tenerci stretti a Lui e avere comunione con Lui. Amen. Così questa mattina continuiamo ancora con la terza parte, i cieli aperti. Abbiamo parlato del dare a Dio, la prima domenica, che quando noi ubbidiamo a Dio e diamo a Dio le nostre risorse, la nostra vita, Lui apre i cieli su di noi. Domenica scorsa lo Spirito Santo ci ha parlato dell'intimità che dobbiamo avere con Lui. Lui ci chiama ad avere un'intimità e quindi a pregare, a cercarlo. Lui chiama ciascuno dei Suoi figli, tutti quanti noi, a perdonare. E tutti quanti noi dobbiamo perdonare, dobbiamo camminare nel perdono. Come figli noi non ci possiamo permettere il lusso di non perdonare perché quando non perdoniamo restiamo bloccati. Perché restiamo bloccati? Perché spiritualmente c'è un blocco. Perché Gesù disse nella Sua parola, quando voi vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro perdoni i vostri peccati. Quindi quando noi non perdoniamo, i cieli sopra di noi sono chiusi. Dio non ci potrà perdonare, non ci potrà benedire. Lui ci ama. Il Suo amore per noi è indiscutibile. Nessuno può discutere sul Suo amore verso di noi, verso i Suoi figli, verso l'umanità. Ma tutte le altre cose sono discutibili. Ovvero significa che Lui ci ama e noi siamo coscienti che Lui ci ama, ma ciò non significa perché Lui ci ama, Lui ci approva. Perché se noi non perdoniamo, non stiamo ubbidendo alla Sua parola e Lui non ci può approvare. Lui ci ama. Ma se noi non camminiamo nel perdono come figli di Dio e camminare nel perdono significa... Tu cammini sempre, no? Sei venuto qua camminando, qualcuno ti ha portato in una lettiga. Camminare nel perdono significa azione continuata. Perché tutti quanti noi feriamo, tutti quanti noi ogni giorno veniamo feriti e tutti quanti noi ogni giorno dobbiamo perdonare e ricevere perdono. E non ci possiamo permettere di camminare nella mancanza di perdono perché quando noi non perdoniamo una persona noi pensiamo sempre a quella persona e restiamo legati. E lo Spirito Santo non ci può far vedere altre cose o altre persone o altre situazioni. Non possiamo avere gli occhi aperti nel mondo spirituale perché la nostra mente, spiritualmente, siamo legati a quella persona e la pensiamo sempre. E spesso parliamo anche di quella persona. Allora una cosa molto importante è camminare nel perdono. Com'è importante? Sviluppare intimità con Gesù. La Bibbia dice che Gesù disse ai Suoi discepoli io non vi chiamo più servi ma amici perché vi faccio conoscere le cose del Padre mio. E Gesù conosceva le cose del Padre perché Lui aveva un'intimità stretta, forte, meravigliosa con il Padre. E io credo che ciascuno, la Chiesa, quindi i figli di Dio, dobbiamo sperimentare questa potente intimità. E ti dico una cosa è che quando noi saliamo di livello e sperimentiamo una potente intimità non c'è posto nella nostra vita per peccare e per sbagliare. Ripeto, quando noi abbiamo una forte intimità con Gesù non c'è posto nella nostra vita per sbagliare e per peccare. perché siamo così tanto avvolti dalla Sua presenza, dal Suo amore siamo così presi dalla Sua meravigliosa presenza che per noi non c'è motivo di peccare. Tutte le altre cose non ci danno soddisfazione. Il mondo non ci attira non ci piacciono le cose di questa vita, di che viviamo in questo mondo li usiamo, li possiamo usare ma siamo attratti dalla Sua presenza, dall'intimità col Padre. Gesù era attratto dall'intimità col Padre lui tutti i giorni ministrava, guariva, sfamava, faceva miracoli ma aveva una santa abitudine che lui si ritirava in luoghi solitari a pregare. E io credo che come faceva il nostro Maestro come faceva il nostro Signore dobbiamo fare anche noi. Discepoli significa persone che seguono l'insegnamento del Maestro e il nostro Maestro oltre ad essere il nostro Signore Gesù dobbiamo seguire Lui e dobbiamo fare come Lui. Quindi ognuno di noi deve avere un tempo, un luogo da dedicare dove si incontra con Dio un tempo da dedicare a Dio, un luogo dove si incontra con Dio. Amen? E ti faccio vedere che quando tu sali di livello nell'intimità tu smetti di sbagliare, tu smetti di peccare perché ti senti amato lo Spirito Santo ti guarisce lo Spirito Santo è la tua soddisfazione dell'anima della mente, dei desideri anche della tua carne Lui è tutto e tu ed io non abbiamo bisogno di sbagliare di andare a ricercare altre cose di peccare perché la Sua presenza la Sua meravigliosa presenza è tutto per noi. Amen? Questa mattina mentre uscivo ho visto delle persone vedevo insomma delle persone che camminavano camminavano e stavano persone anziane stavano andando in chiesa erano tutte persone anziane 70 anni, 80 anni poverette che vieno piano che camminavano stavano andando guardavo queste persone e dicevo wow queste persone c'è un grande desiderio nel cuore di queste persone anziane per andare in chiesa ad ascoltare la parola di Dio a stare in comunione con Dio e la mia riflessione era non sulle persone che andavano in chiesa perché li apprezzavo ma quello che viene detto a queste persone allora noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo perché ci sono persone che realmente stanno cercando Dio ed è importante che ciascuno di noi possiamo essere ripieni della presenza dello Spirito Santo per dire alle persone quello che loro quello che Dio gli vuole dire e non quello che le persone si vogliono sentire dire e dobbiamo i cieli aperti significa che Dio ci parla e Gesù aveva i cieli erano continuamente aperti su di Lui Lui riceveva e diceva al Padre e diceva alle persone Lui riceveva dal Padre e trasmetteva alle persone e io credo che questa debba essere l'attitudine di ciascuno di noi che continuamente i cieli devono essere aperti su di noi e questa mattina tratteremo della chiave per aprire i cieli i cieli oltre all'intimità oltre a dare oltre a praticare il perdono perché i cieli si aprono hai bisogno di usare il nome di Gesù e il nome di Gesù è come la chiave della macchina tu puoi avere la macchina parcheggiata bella ma se non hai la chiave tu non puoi entrare in macchina non ne puoi fare uso e così avviene che nel regno di Dio c'è tutto pronto preparato per i figli ma se non usi il nome di Gesù tu non puoi accedere al cielo non puoi aprire il cielo e questo è il motivo perché tante persone non hanno benedizione sulle loro vite perché c'è chi si rivolge a Gloria c'è chi si rivolge ad Antonio c'è chi si rivolge a Pio c'è chi si rivolge a Maria chi si rivolge a Maddalena e i cieli sono chiusi perché le persone non usano il nome di Cristo Gesù e mi voglio voglio puntualizzare con l'usare il nome di Cristo Gesù noi non dobbiamo fare del nome di Gesù un'usa improprio ma dobbiamo sapere usare il nome di Gesù perché nel nome di Gesù c'è potenza e quindi non dobbiamo usare il nome di Gesù impropriamente una persona che non è nata di nuovo che non ha ricevuto Cristo Gesù nella loro vita come personale Signore Salvatore non può usare il nome di Gesù i credenti tutti coloro che abbiamo aperto il nostro cuore a Cristo Gesù noi possiamo usare il nome di Gesù perché nel nome di Gesù Cristo c'è autorità e i demoni sanno perfettamente che nel nome di Gesù c'è autorità e i demoni tremano da questo nome e a volte sai cosa accade che come credenti noi piuttosto che usare il nome di Gesù per determinate situazioni ci giriamo attorno e discutiamo per quanti sapete la storia di quello zoppo che si trovava davanti alla porta bella del tempio ogni giorno lo portavano là perché questo zoppo chiedeva la lemosina per poter sopravvivere un giorno passò Pietro e Giovanni e gli hanno detto ore argento non ne ho ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù io ti dico alzati e cammina nel nome di Gesù c'è potenza quello zoppo si è alzato e iniziato a camminare allora dobbiamo fare buon uso di questa chiave che Dio ci ha dato il nome di Cristo Gesù e i demoni tremano quando i credenti usiamo il nome di Gesù ma dobbiamo usarlo nel modo giusto non per cose sbagliate non per fare per stupidaggini che tante volte la Bibbia dice non usare il nome di Dio in vano non usare il nome di Gesù in vano e quindi dobbiamo usare nel modo giusto il nome di Gesù è la chiave che apre i cieli affinché le piogge di benedizioni possano scendere ma il nome di Gesù lo possiamo usare se camminiamo fuori dal peccato fuori dalla trasgressione e il popolo di Dio tutti quanti noi cari siamo chiamati a non camminare nel peccato la Bibbia dice che noi siamo stati lavati e purificati da ogni iniquità e da ogni forma di peccato che abbiamo commesso prima di Cristo Cristo col suo sangue ci ha lavato ci ha purificato e Dio si aspetta che è un padre meraviglioso che dal giorno in cui noi abbiamo ricevuto Cristo iniziamo a camminare in un modo santo in un modo irriprensibile come piace a Dio certo peccheremo ma non peccheremo volontariamente peccheremo involontariamente ma quando pecchiamo volontariamente sappiamo che è una cosa sbagliata e la facciamo e a volte ci discutiamo sulla cosa sbagliata diciamo sì però ma eh perdono ma tu non sai pastore quel fratello cosa mi ha fatto tu non sai mia moglie come mi tratta tu non sai mio marito come mi tratta tu non sai mie figli come posso fare a perdonare bene come Gesù ha perdonato te tu perdona anche i tuoi fratelli perdona tuo marito perdona tua moglie perdona i tuoi figli perdona i tuoi genitori ma se noi pretendiamo di usare il nome di Gesù senza avere prima praticato la parola di Dio non funziona perché Dio ci dice me figlio mettiti in ordine anche il diavolo poi ci dice se tu stai peccando tu mi sgridi a me nel nome di Gesù quando tu tu sei tutto nel peccato e il diavolo ti sgrida lui e là dobbiamo fare attenzione noi come popolo di Dio ragazzi io credo che ci sono grandi benedizioni che Dio ha preparato per i suoi figli non credo che un padre voglia fare del male ai suoi figli non credo che un padre voglia lasciare i suoi figli digiuni non credo che un padre su questa terra voglia dare calce ai suoi figli continuamente non credo che un padre voglia privare i suoi figli del cibo delle benedizioni e Gesù disse se voi siete malvagi sapete dare buone doni ai vostri figli quanto più il padre celeste donerà a voi cose buone allora partiamoci dal presupposto che Dio a ciascuno di noi vuole dare cose buone e che motivo abbiamo di peccare quando Dio ai magazzini del cielo le risorse del cielo sono a disposizione per i figli che motivo abbiamo di camminare nel peccato abbiamo bisogno di camminare come figli nella giustizia di Dio amén Giovanni capitolo 16 versetto 23 la Bibbia dice in quel giorno non mi farete più alcuna domanda in verità in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al padre nel mio nome egli ve lo darà ripeto Gesù 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 aveva con i suoi e dice in quel giorno che io me ne andrò che io non sarò più qua a voi vi lascio la chiave per aprire i cieli per aprire la porta di casa e Gesù stava dicendo in quel giorno non mi farete più alcuna domanda in verità in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al padre nel mio nome egli ve lo darà e tutto ciò che domanderemo al padre in accordo alla sua volontà egli ce lo darà perché egli è quello che vuole fare Dio e vuole fare del bene ai suoi figli lui non è portato a fare del male lui non è come qualcuno dice o sto male o un cancro o una malattia o la diabete questo è il pen come dire devo scontare la croce che Dio mi ha dato Dio non dà croce Dio non fa penitenze ai suoi figli Dio non dà perché ti vuole umiliare attraverso una malattia attraverso la povertà attraverso una condizione di schiavitù Dio non agisce in questo modo Dio vuole solo fare del bene lui non conosce il male lui conosce solo il bene e lui vuole fare solo del bene ai suoi figli quindi partiamo da questo presupposto che tutte le benedizioni che noi possiamo ricevere li possiamo ricevere da Dio Padre e Gesù disse tutto quello che domanderete in accordo alla mia volontà alla volontà del Padre mio il Padre ve lo darà il Padre vuole farti del bene il Padre vuole benedire la tua vita ti vuole rendere ricco prima dentro e poi attorno a te ma se non sei ricco dentro verso di Lui tu non potrai gustare la ricchezza di Dio tu non potrai essere ricco neanche attorno a te e quindi è importante che noi resettiamo facciamo un reset nella nostra mente perché quando noi pensiamo che Dio ci vuole dare tutto subito pensiamo a cose materiali quello che Dio ci vuole dare tutto è tutte le ricchezze che ci sono in cielo Dio te li vuole dare tutte le ricchezze spirituali la rivelazione quello che accade con l'autorità nel nome di Gesù quello che Dio ha preparato per te Dio ti vuole fare vedere i prossimi 20 anni i prossimi 30 anni i prossimi 40 anni vuole farti vedere il tuo matrimonio come sarà fra dieci anni come sarà la tua vecchiaia Dio ti vuole fare vedere la tua eternità come sarai quando entrerai nell'eternità ma molto spesso noi ci limitiamo a vivere la nostra vita i nostri giorni preziosi che Dio ci dona solo ed esclusivamente per le cose di questa vita e la Bibbia dice che il mondo passa con le sue concupiscenze concupiscenze ma chi fa la volontà del Padre mio rimarrà in eterno amén quindi ricordati Giovanni capitolo 16 versetto 23 in quel giorno non mi farete più alcuna domanda in verità vi dico che tutte le cose che domanderete al Padre nel mio nome Egli ve le darà quindi qualsiasi cosa è di bisogno la provvidenza divina la provvidenza finanziaria il lavoro la sistemazione della tua famiglia del tuo matrimonio la conversione dei tuoi genitori tutto quello che tu hai di bisogno la conversione dei tuoi figli prega nel nome di Gesù il nome di Gesù è la chiave che apre i cieli perché possa cambiare la situazione dei tuoi figli amén ok la seconda cosa è ministrare sotto un cielo aperto cieli di rame terra di fuoco o di ferro cosa significa i cieli di rame quando i cieli sono chiusi ma Dio vuole aprire i cieli per i suoi figli soprattutto in questo periodo che il mondo è in confusione e quando parlo del mondo intendo tutte le persone che vivono su questo mondo oggi sono in confusione e ci sono anche i media i telegiornali facebook i social la radio che sta portando tanta di quella confusione nella vita delle persone e questa confusione sta cercando di entrare anche nella chiesa è come se la chiesa vivesse la chiesa di Cristo Gesù vivesse per le notizie che ascolti nel telegiornale la chiesa deve vivere per quello che è stato già scritto nei cieli e che Dio l'ha mandato sulla terra ed è scritto nella parola di Dio Dio sapeva che ci sarebbero state pestilenze terremoti fame e Dio già aveva detto Gesù ha parlato nei suoi sermoni dice voi attraverserete momenti di difficoltà ci saranno terremoti in vari luoghi ci saranno pestilenze ci saranno carestie forse non trovi scritto nella Bibbia che ci sarebbe stato il covid 19 ma trovi nella Bibbia che ci sarebbero state epidemie pestilenze ci sarebbero stati terremoti non trovi nella Bibbia il luogo dove ci sarebbe stato il terremoto ma nella Bibbia trovi che ci sarebbero stati terremoti in vari luoghi ma Gesù avvertiva i suoi e diceva stati attenti che ancora non è la fine questi sono i segni ma non è ancora la fine ma dobbiamo vivere come credenti come se fosse la fine e quindi è per questo che non dovremmo mai peccare non dovremmo mai vivere nel compromesso non dovremmo mai vivere senza perdonare perché se Gesù torna da un momento all'altro e noi camminiamo in una condizione di peccato noi siamo in una condizione infognati nel peccato in una mancanza di perdono la Bibbia dice che lui verrà a prendere la sua sposa non verrà a prendere tutti e la Bibbia dice che la sposa si prepara noi dice ok quelle donne che si sono sposate ok domani c'è il mio giorno di matrimonio vabbè non mi interessa così vediamo l'abito che c'è sull'armadio lo prende il più bello lo prende e me lo metto mi sistemo un po' i capelli e va bene così non ho bisogno di farmi le unghia non ho bisogno di trucco io non ho visto mai una sposa così ma la sposa inizia a prepararsi inizia a sognare il suo abito prova il primo prova il secondo va in quel negozio non gli piace quell'abito poi va in un altro negozio gli fa mettere 30 abiti tutti a disposizione li prova tutti e poi dice non mi piace voglio e va in un altro negozio poi si sceglie quello l'estetista poi si va a scegliere le scarpe e c'è un anno almeno di lavoro di sacrificio per prepararsi almeno un anno e l'acconciatura deve essere in questo modo e deve facciamo le prove del trucco facciamo le prove dell'acconciatura e vediamo come sta col vestito no non mi piace così perché io devo quando mi presenterò davanti al mio sposo e mi presenterò davanti agli invitati io devo fare figura allora se questo avviene per un matrimonio terreno quanto più deve accadere per un matrimonio celeste che la Bibbia definisce la chiesa tu sei parte della sposa la chiesa di Cristo Gesù rappresenta la sposa di Cristo e un giorno Gesù la Bibbia dice nella stessa nella medesima maniera come l'avete vista andare nella medesima maniera ritornerà e quando lo sposo verrà vorrà trovare la sua sposa curata che è andata dall'estetista che non ha rughe che ha curato l'acconciatura che ha un bel vestito bianco che non ha sporcato le sue vesti che non si è contaminata che ha camminato nel perdono ha camminato nell'intimità e quando lo sposo tornerà si rallegrerà della sua sposa che è la chiesa e tu ed io facciamo parte di questa sposa al suono la Bibbia dice dell'ultima tromba quando la tromba suonerà Gesù ritornerà e verrà a rapire la sua sposa e come si fa trovare la sposa la sposa quando arriva davanti l'altare quando arriva nel luogo dove viene celebrato il matrimonio lei non vuole sporcare l'abito e se l'abito strisce a terra lo alza e se non alza lei c'ha le damigelle che glielo alzano se non glielo alzano le damigelle c'è la mamma che glielo alza perché vuole arrivare davanti all'altare di Dio con la veste che non è sporcata e questo rappresenta la chiesa noi dobbiamo curare il nostro abbigliamento noi dobbiamo curare la nostra vita spirituale quando ci presenteremo davanti a Gesù il nostro vestito non deve essere sporco ma dobbiamo presentarci qualcuno lo bacia no che nessuno tocchi la sposa perché è il trucco non mi fare piangere perché si toglie il trucco deve arrivare davanti l'altare in modo irreprensibile dice facciamo una foto no non toccare non ti avvicinare al viso perché si rovina il trucco e il papà magari gli dice perché deve accompagnarla all'altare gli dice oh che bella mia figlia la mamma gli dice non farla piangere si rovina il trucco deve essere immacolata quando si presenterà allora se questo avviene per la celebrazione di un matrimonio terreno quanto più la sposa deve prepararsi per un matrimonio eterno perché la festa per un matrimonio terreno dura un paio d'ore poi vengono i dolori quando ritorno a casa iniziano le liti col marito le discussioni ecco tu non mi avevi detto che non ti faceva la bocca ti puzziano le ascelle ti puzziano i piedi vai a levarti i piedi vai a lavarti le ascelle la doccia non te la sei fatto ma perché lasci i calzini qua ma perché lasci le slip là ma perché la camicia non la metti apposta iniziano le liti iniziano le discussioni e tutto questo la preparazione che una sposa fa la fa per qualche ora ma poi inizia la vita reale inizia le discussioni ma noi ci prepariamo ragazzi per un matrimonio eterno dove non ci sarà liti dove non ci sarà separazione dove ci sarà continuamente festa perché dobbiamo sporcare il nostro abito perché dobbiamo macchiare il nostro vestito noi dobbiamo camminare come sposa in modo irreprensibile per essere un giorno nel cielo e godere nell'eternità questa meravigliosa intimità quello che non abbiamo vissuto su questa terra quello che non siamo stati capaci di alimentare su questa terra un giorno nel cielo godremo di questa intimità e gioiremo non ci sarà la Bibbia dice né dolore né pianti né stridor di denti né sofferenza non ci sarà mal di testa non ci sarà mal di schiena non ci sarà cancro non ci sarà male per questo dobbiamo vivere su questa terra in funzione dell'eternità e non in funzione per le cose di questa vita perché le cose di questa vita passano la Bibbia dice ma chi fa la volontà del Padre mio rimane in eterno amèn quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo ministrare sotto un cielo aperto voglio seguire lo Spirito Santo che è meglio piuttosto che i miei appunti Isaia capitolo 30 versetto 15 la Bibbia dice poiché così dice il Signore l'Eterno il Santo di Israele nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati nella calma e nella fiducia sta la vostra forza c'è un invito che Dio fa attraverso il profeta Isaia nel tornare a me e nel riposare in me oggi come credenti come figli di Dio tante volte viviamo come estranei di Dio è come se fossimo orfani non avessimo un papà che si prenda cura di noi non avessimo nessuno che si prenda cura di noi e viviamo nel continuo affanno cerchiamo di tutto cerchiamo chi ci aiuta cerchiamo il sostegno cerchiamo chi ci manda il messaggio cerchiamo chi ci dà una parola profetica cerchiamo di tutto ma la Bibbia dice nel tornare a me dice il Signore il Santo di Israele e nel riposare a me sarete salvati nella calma e nella fiducia sta la vostra forza allora quando noi andiamo alla sua presenza e ministriamo a Lui ministriamo con un cielo aperto non significa i cieli sono aperti dentro di me perché io continuo a correre in continuazione continuo a fare i miei affari perché tanti cieli sono aperti sopra di me no nel tornare a Lui nel dimorare alla sua presenza nel camminare come Lui desidera i cieli sopra di noi sono aperti e quando i cieli sono aperti ci sono tre ascolta tre dimensioni della sua presenza l'onnipresente l'onnipresenza e la Bibbia parla dell'onnipresenza che Lui è in ogni luogo Lui è con noi e anche con il fuori si trova in Spagna si trova in America si trova in Sicilia si trova con le persone che stanno peccando si trova in mezzo ai ladri si trova è ovunque Dio vede ovunque e questa è una dimensione della presenza di Dio poi c'è la presenza dimorante cos'è la presenza quando Lui dimora quindi c'è l'onnipresenza di Dio che è ovunque poi c'è la presenza di Dio che dimora e poi invece c'è la presenza manifesta cos'è la presenza manifesta è quando stavano inaugurando il Tempio che Salomone aveva fatto costruire se vi ricordate in prima cronache se non ricordo male sia seconda cronache capitolo 5 versetto 13 e 14 la Bibbia dice che quando stavano inaugurando il Tempio che Salomone aveva fatto costruire la nuvola scesa nel Tempio e tutti coloro che stavano a servire non poterono servire a motivo della gloria quella era la presenza di Dio che si era manifestata in quel momento la Bibbia dice che tutti quelli che stavano cantando i portinai tutti rimasero fermi bloccati a motivo della gloria si era manifestata la presenza di Dio e tutto era rimasto tutti erano rimasti fermi in un'altra occasione la Bibbia ci parla in atti a capitolo 9 versetto 3 dice ora avvenne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò intorno la presenza di Dio manifesta toccò la vita di Saulo mentre lui stava camminando verso Damasco la presenza di Dio si manifestò una luce folgorante l'ha fatto cadere giù dal cavallo e Gesù iniziò a parlare a Saulo che poi diventò Paolo il grande apostolo di Gesù Cristo e in un'altra occasione la Bibbia dice dove Luca capitolo 9 versetto 28 ora avvenne che circa otto giorni dopo questi discorsi egli prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò sta parlando qua di Gesù e la sua veste divenne candida e sfolgorante Gesù si ritirò in un luogo appartato salì sul monte si portò ad alcuni suoi discepoli e mentre lui stava pregando era con i suoi discepoli la presenza di Dio si manifestò e la sua veste dice che divenne candida bianca e sfolgorante ed ecco due uomini e questi due uomini erano Elia e Mosè dice ed ecco due uomini parlavano con lui essi erano Mosè ed Elia i quali apparsi in gloria parlavano della sua dipartita che stava per compiersa a Gelusalemme la presenza di Dio si manifestò allora c'è l'onnipresenza di Dio la presenza di Dio manifestata ma è il livello più alto e questa mattina mentre stavo rivedendo i miei appunti e stavo rivedendo il messaggio io lo Spirito Santo mi ricordava di una promessa che lui avrebbe visitato il Gospel Center e ho detto Signore io questa mattina voglio salire di livello non che tu ti manifesti ma che tu ti mori perché una cosa è la visita ma poi va via una cosa è la manifestazione e poi va via se ne può parlare tutt'altra cosa è la presenza dimorante ripeto una cosa è la visitazione la manifestazione temporanea tutt'altra cosa è la presenza dimorante l'onnipresenza la presenza manifesta ma poi c'è la presenza dimorante significa che Dio dimora l'onnipresenza è una divina iniziativa di Dio scusatemi quindi l'onnipresenza è per divina iniziativa di Dio lui è ovunque la presenza manifesta è per divina in partizione sua o per divina iniziativa sua la presenza dimorante dipende da te e dipende da me non da Dio ripeto l'onnipresenza è una divina iniziativa di Dio lui è ovunque la presenza manifesta dipende da lui la presenza dimorante dipende da te e dipende da me e come può dimorare Gesù disse se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi significa se voi noi dimoriamo in Gesù la parola di Dio Dio stesso verrà a dimorare con noi e quando Dio è con noi i cieli sono aperti e si vedono Gesù ascolta aveva i cieli aperti su di lui perché Gesù dimorava col Padre e i cieli sopra di lui erano aperti e ti dico ancora una cosa di più Gesù quando è venuto sulla terra su di lui il terreno era di ferro ma lui nel terreno dove lui attraversava difficoltà in mezzo ai suoi compaesani che lo riconoscevano come figli di Giuseppe lo riconoscevano come figli il figlio del Fallegname ma quando lui era sulla terra malgrado le opposizioni le difficoltà malgrado tutte le critiche degli scribe dei farisei lui operava segni prodigie e miracoli perché i cieli erano aperti su di lui e questo deve avvenire anche per la Chiesa anche se tu hai difficoltà problemi persecuzione se tu dimori alla sua presenza i cieli sono aperti il problema dove sta? il problema sta che la Chiesa non dimora lui deve alzare il livello anche se tu attraversi difficoltà nella terra perché Gesù disse quando sarete sulla terra avrete persecuzioni sarete odiate a causa del mio nome a causa di quello che fate vi criticheranno vi prenderanno in giro vi diranno che siete Belzebù vi diranno di tutto ma questo non importa quello che la terra dice è quello che il cielo dice di voi non ti importa se la terra è di ferro Dio dal cielo cambierà anche la terra e ti benedirà anche attraverso la terra lui è potente da cambiare il suolo dove tu sei la cosa importante che i cieli siano aperti ma per permettere che i cieli sopra di noi sopra la Chiesa io non parlo solo individualmente il desiderio del mio cuore è che nella Chiesa i cieli siano aperti che nella Chiesa i cieli siano aperti che ci siano i migliori professionisti i migliori universitari che ci siano i migliori industriali che ci siano i migliori insegnanti i migliori medici i migliori chirurgi che ci siano i migliori insegnanti nelle scuole elementare e quando la Chiesa ha i cieli aperti la Chiesa sale di livello io credo che dobbiamo smettere di camminare come schiavi se Cristo ti ha fatto libero devi camminare da figlio libero e devi dimorare alla sua presenza e devi avere la presenza di Dio dimorante costantemente le persone devono dire questo è un santo uomo di Dio una santa donna di Dio la Chiesa è chiamata nella città a governare ad essere una luce un faro come il faro è messo nel molo del porto in un in quel come si chiama nel molo del porto all'angolo e viene messo sulla punta e viene fatto va a luce durante la notte tu sei chiamato ad essere luce la Chiesa è chiamata ad essere luce ma la luce può funzionare se due punti tu ed io permettiamo alla presenza di Dio di dimorare e anche se attraversiamo difficoltà problemi opposizioni queste cose non ci importano Gesù ci ha avvisato noi non siamo colti di sorpresa se queste cose avvengono nella nostra vita saremo odiati saremo chiamati sono quelli che fanno caos questi sono indemoniati e noi non ci interessa cosa dicono di noi la cosa importante è che i cieli sopra di noi siano aperti e che le benedizioni di Dio Dio si manifesta nella nostra vita che la nuvola durante il giorno cammina davanti a noi e che la colonna di fuoco durante la notte cammina davanti a noi noi siamo di quelle persone che la Chiesa di Cristo ha direzione e dà direzione la Chiesa di Cristo non è confusa ragazzi fratelli cari la Chiesa di Cristo non deve essere confusa la Chiesa noi diveniamo confusi quando ci allontaniamo dal proposito di Dio quando ci allontaniamo dalla presenza di Dio quando ci allontaniamo dalla parola di Dio noi diveniamo confusi ma la parola di Dio è chiara non rende nessuno confuso la parola di Dio dà chiarezza lo Spirito Santo dà chiarezza Dio dà chiarezza Gesù quando venne sulla terra diede chiarezza diede direzione e tu ed io qua sulla terra dobbiamo dare chiarezza e direzione noi non siamo chiamati a vivere nella confusione cosa sarà il nostro domani cosa verrà del nostro domani cosa sarà del prossimo mese cosa verrà il prossimo anno devo stare attento a questo devo stare attento a questo devo stare attento a questo mi devo riempire la casa di spesa chissà mai arriverà un'altra emergenza il Padre vostro che è nei cieli si prenderà cura di voi non dobbiamo essere di quella gente che viviamo nella paura nell'insicurezza e parliamo con gli altri diciamo ah sì chissà mai noi siamo di quelle persone che crediamo nella potenza di Dio e dobbiamo dare speranza alle persone noi dobbiamo portare la luce in questo mondo Gesù disse voi siete non sarete Gesù disse voi siete la luce Gesù disse voi siete il sale coloro che fate la differenza voi siete la luce coloro che illuminano la vita delle altre persone coloro che illuminano le città coloro che illuminano i luoghi detenebrosi e di peccato e porterete luce da dove c'è peccato porterete luce da dove c'è compromesso luce dove c'è magia e porterete la luce di Cristo Gesù ma tutto questo lo possiamo fare se se dimoriamo se noi dimoriamo e lui lui dimora e noi oppure ti puoi accontentare della presenza di Dio manifesta oh che bello questa mattina oh che è stato bello lo spirito santo mi ha toccato e domani lunedì cosa fai e martedì cosa fai e mercoledì cosa fai o ti basta il tocco di una domenica per fare il carburante per un mese per due mesi per tre mesi oppure Gesù ogni giorno aveva un rapporto con il padre e lui attingeva le risorse dal cielo per portarle sulla terra tu ed io dobbiamo essere di quelle persone che attingiamo le risorse dal cielo per portare risorse laddove le persone non hanno più risorse laddove le persone non hanno più speranza tu attingi la speranza dal cielo e questa speranza la porti in certezza e dai certezza alle persone a volte vedo che c'è più confusione nella chiesa c'è mancanza di fede più tra i figli di Dio che tra i non credenti noi siamo chiamati a dare stabilità noi siamo chiamati su questa terra noi siamo i figli di Dio coloro che abbiamo la luce coloro che abbiamo la speranza coloro che abbiamo la certezza coloro che abbiamo lo spirito santo coloro che abbiamo il nome di Cristo Gesù coloro autorizzate a usare il nome di Cristo Gesù non per cambiare situazioni ma per cambiare nazioni per cambiare città per cambiare regioni per cambiare matrimoni per cambiare la vita delle persone tu e Dio abbiamo le chiavi o lasci la macchina sempre parcheggiata tu e Dio abbiamo l'autorità di cambiare situazioni quando Gesù venne sulla terra lui ovunque andava cambiava situazioni cambiava la vita delle persone cambiava l'atmosfera nelle case cambiava la salute delle persone cambiava il male in bene cambiava la povertà e ricchezza risuscitava i morti pregava per i malati risuscitava i malati liberava gli infermi liberava gli indemoniati e tu e Dio cosa facciamo qua sulla terra tu e Dio siamo chiamati a fare le stesse opere che Gesù faceva Gesù disse anzi tu ne farai di più o ti sei accontentato di una domenica entusiasmante wow che è stato bello questa domenica non siamo arrivati a un livello alto ragazzi fratelli cari amici mettici tutto quello che vuoi noi dobbiamo salire di livello non ti accontentare perché hai raggiunto il primo step Gesù saliva la Bibbia dice che egli cresceva di giorno in giorno davanti a Dio e davanti agli uomini Dio deve dire deve mettere un like ogni giorno nella tua vita in tutto quello che tu fai in tutte le azioni come quando ti fai una foto su Facebook una foto e la posti su Facebook che tutti vanno a guardare il tuo profilo e metti mi piace mi piace il cuoricino il pollice e mettono due cuoricini io credo che in tutte le azioni che tu fai Dio deve dire un like 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 mi piace mi piace non una volta non una volta al mese non una volta all'anno ma azioni continuate tu posti e il cielo dice amen mi piace ma la Chiesa penso che si sia addormentato siamo arrivati non è anche ne abbiamo iniziato ragazzi la Bibbia dice che il mondo le persone di questa vita giacciono nel peccato sono privi della gloria di Dio e il mondo aspetta sta desiderando sta bramando sta ardendo la manifestazione dei figlioli di Dio il mondo aspetta che nella Chiesa escano fuori industriali che creano posti di lavoro il mondo aspetta con bramosia con manifestazione che attraverso la Chiesa la Chiesa escono insegnanti professori maestri che insegnino ai figli che educano i figli con l'insegnamento della parola di Dio che ci sia etica nelle scuole il mondo aspetta che ci siano persone che insegnino sul matrimonio che educano i giovani che si prendano cura dei bambini ma la Chiesa cosa sta portando fuori noi siamo chiamati dentro di te caro mio c'è un grande potenziale e questo potenziale si chiama Spirito Santo cosa stai facendo una sede sotto questo tappo qua cosa c'è c'è una vasca battesimale e ci sono gli attrezzi di quando battezziamo le persone c'è la pompa che buttiamo l'acqua scarichiamo l'acqua c'è la scala per scendere giù ci sono gli attrezzi tutto quello che serve gli accessori che servono per battezzare le persone stanno là sepolte cosa sta facendo lo Spirito Santo l'hai sepolto cosa hai fatto dei doni l'hai messo qua sotto la vasca l'hai conservato l'hai messo sul tuo ripostiglio lui nella tua vita nella mia vita deve avere il posto di onore lui non deve stare sotto deve stare sopra lui non deve stare nascosto deve essere luce deve essere manifestata attraverso la tua vita perché le persone possano vedere questa meravigliosa presenza dolcezza dello Spirito Santo la mansietudine la bontà la passione l'amore per le persone del mondo tu non ti puoi permettere il lusso di mettere lo Spirito Santo sotto in un magazzino di sotterrare lo Spirito Santo tu devi portare fuori lo Spirito Santo devi permettere allo Spirito Santo di usarti di usarsi della tua vita perché sia la luce che lui già ha messo dentro di te venga fuori ripeto la luce che è già stata messa dentro di te venga fuori perché c'è sono qua gli attrezzi sono sotto questo pavimento stanno là al momento opportuno li tiriamo fuori ma ci sono lo Spirito Santo è dentro di te lui vuole uscire fuori porta fuori lo Spirito Santo stamattina dice forse era meglio che mi stava a casa non è buono che tu sei venuto credimi ieri sera mi sono messo nel divano ho ricevuto una cosa gli ho detto a mia moglie domani è domenica gli ho scritto una cosa perché noi andiamo in chiesa allora noi arriviamo in chiesa e ogni persona che arriva in chiesa dice speriamo che Dio mi parli in questa determinata situazione arriva un altro e speriamo che Dio mi parli in questa situazione arriva un altro e speriamo che Dio mi parli arriva un altro e speriamo e Dio dice ok una alla volta e vogliamo ascoltare noi quello che vorremmo ascoltare pubblicamente ma lo Spirito Santo lui ha già preparato quello che lui ti vuole dire per il tuo bisogno poi devi pensarci nell'intimità e devi chiedere a Dio nell'intimità ma la domenica quando noi veniamo che ti piace il messaggio non ti piace è Dio che ti sta parlando e mi sta parlando poi se io ho un bisogno mi ritiro nell'intimità e dico padre ti prego tu sei mio papà provvedi per questo mio bisogno cambia ma nella mia intimità ho un rapporto con lui ma qua è un messaggio pubblico dove diamo la possibilità allo Spirito Santo di parlare alla famiglia di parlare pubblicamente per quello che lui vuole fare e quello che c'è nel cuore del padre e guardando le persone che sono fuori queste mura guardando le persone che stanno soffrendo guardando le persone che non hanno speranza guardando i matrimoni che stanno fallendo guardando i giovani che non hanno speranza di lavoro che non hanno certezza per un futuro e il padre guardando tutto questo sta dicendo chiesa figli uscite fuori e date speranza date certezza recuperate i matrimoni recuperate i giovani recuperate le persone date speranza alle persone chiesa lasciati usare perché io voglio fare di te un industriale un commerciante un professionista un medico che non va in ospedale per fare un intervento e dice ok pagami a me ma un figlio di Dio che usa la sua professione per aiutare gli uomini per aiutare i bambini che non esercita la propria professionalità per fini personali ma che usa la propria personalità per fini divini guarire le persone aiutare le persone salvare le persone noi tante volte pensiamo andiamo dal medico speriamo la chiesa cari fratelli dobbiamo cambiare mentalità dobbiamo cambiare mentalità speriamo che trovo un medico mi faccio un viaggio e vado in quella città perché c'è quel medico i migliori medici devono uscire dalla chiesa i migliori insegnanti devono uscire dalla chiesa i migliori professionisti commercialisti avvocati devono uscire dalla chiesa dalla famiglia di Dio dei figli di Dio perché le persone con tanto di rispetto per tutte le persone professionisti medici che noi amiamo stimiamo apprezziamo e preghiamo per loro con tutto il rispetto per loro come persone come professione ma non hanno la mente di Cristo Gesù c'è forse una minima parte che opera giustamente santamente ma c'è anche una parte che opera per fini personali perché non hanno il cuore di Gesù e Dio sta cercando figli ma cosa volete fare? volete ancora contentarvi e vivere dalle bricele che cadono dalla tavola del padrone o realmente volete manifestare mi permettete che io mi posso manifestare attraverso di voi per illuminare dare speranza alla vita di tante persone oppure no vuoi ancora vivere con i cieli chiusi sopra di te o vuoi essere usato da Dio che i cieli sono aperti hai opposizione problemi difficoltà ce le avrai come ce le avevi prima di conoscere il Signore ce le avremo sempre queste cose le difficoltà cari ce le avremo sempre non pensate che noi arriviamo in Chiesa e tutti i problemi tutte le difficoltà passeranno non è così non funziona così Gesù disse nel mondo avrete tribolazione ma fatevi animo ragazzi io ho vinto il mondo vi insulteranno vi perseguiteranno Gesù quando camminava sulla terra l'hanno presa addirittura per Belzebù è un indemoniato è il figlio di Giuseppe è il figlio del fallegname ma chi ti senti tu di parlare così ma chi sei tu per dire questo ma chi tu sei per trasgredire la legge di Mosè in giorno di sabato non si può operare miracoli Gesù quando era arrivato sulla terra ha portato cambiamento e trasformazione e Gesù oggi lo vuole fare attraverso di te attraverso di me aveva opposizione ma lui continuamente aveva i cieli aperti e dovunque andava operava miracoli sai cosa vuole fare l'avversario tuo? vuole farti concentrare sulla sorella che parla male di te sul fratello che non ti manda il messaggio su tua moglie che non ti capisce tu dici la sorella non mi capisce il fratello non mi capisce mia moglie non comprende quello che sta facendo e mi concentro la sorella il fratello la moglie 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 ogni tanto ne aggiungo qualcuno un altro fratello quindi fratello 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 E poi ci metto anche il pastore, il pastore non mi capisce. E ci concentriamo sempre, sorella, fratello, fratello, la moglie, sorella, fratello, e ci concentriamo su questo. Ma Gesù non era concentrato su questo. Lui aveva a che fare con religiosi, con scribe, con farisei, con demoni, con malattie, con infermità, con povertà, col pagare le tasse. Gesù ha attraversato tutto, ma lui non era concentrato su tutto quello che accadeva. Il cielo era aperto su di lui. Lui non era distratto dalle cose attorno a lui, era concentrato. Tu come sei? Concentrato di pomodoro? Su cosa sei concentrato? Fratelli, noi dobbiamo vivere da persone sagge e dobbiamo stare attenti alle opposizioni, ai problemi, perché i problemi e le opposizioni ci vogliono distrarre dal guardare al cielo aperto. Ti vogliono mettere problemi nel matrimonio, nei figli, nelle finanze, nel lavoro, nelle relazioni, per distrarti. L'obiettivo è farti perdere l'orientamento. E quando hai perso l'orientamento, è come quando cammini a casa, entri in una casa nuova dove non c'hai mai abitato, non puoi camminare al buio. Hai bisogno della luce, perché sei disorientato e ti conviene accendere la luce perché va a sbattere il naso, la fronte, in qualche mura, in qualche porta. Ma a volte come figli di Dio camminiamo pure così, ragazzi, come le persone disorientate. Ma dove mi trovo? Noi abbiamo la parola di Dio che ci orienta, che ci dà direzione. Attraversiamo momenti di difficoltà, problemi. Noi abbiamo lo Spirito Santo, che è come il navigatore che c'è nello smartphone o che c'è nella macchina. Dici dove dobbiamo andare? Tu digiti dove devi andare e il navigatore ti dice all'incrocio, la seconda a destra. Cammina per 500 metri, svolta a sinistra, ti porta a destinazione. La parola di Dio è come il navigatore, che dà direzione. Il problema è quanto stai con la parola, quanto stiamo con la parola, quante intimità abbiamo col Padre, quante intimità abbiamo con lo Spirito Santo. La direzione che noi prendiamo dipende dall'intimità che abbiamo. I peccati che noi commettiamo dipendono dall'intimità che abbiamo col Padre. La prosperità che noi viviamo, spirituale, dipende dall'intimità. Non dipende dalla Chiesa che frequenti o dal Pastore che frequenti. Cambio Chiesa, non è il problema la Chiesa, non è il problema il Pastore, non è la città. Il problema è se tu posso essere anche io che dipendo dall'intimità col Padre. Oggi viviamo in una società dove continuamente ci sono circoli viziosi. Cambio. Perché non mi capisce il fratello, perché non mi capisce la sorella, perché non mi capisce mia moglie, non mi capisce mio marito. Sapete quante volte mia moglie non mi capisce? Quanto io tante volte non capisco mia moglie? Sapete quante volte il diavolo si è messo per confonderci nel piano, nel proposito, perché non potevamo andare avanti? Sai quante volte il diavolo vuole mettere confusione nei matrimoni, nella vita delle persone per non farti andare avanti? Farti perdere il proposito e farti dire, eh, Dio dov'è in questa situazione? E Dio dice, senti, sono qua. Ti chiama, ti bussa, tu dici, chi mi sta bussando? Non lo vedo. Dice, guarda che sono qua, ho la soluzione. Ci sono angeli servitori che vengono per servirti. Ma noi siamo distratti, la sorella, il fratello, il fratello e la moglie. La sorella, il fratello, il fratello e la moglie. Siamo distratti, piuttosto che guardare che Dio è con noi. Allora noi dobbiamo, cari miei, dobbiamo sviluppare intimità, perché i cieli su di noi possono essere aperti. Amen? Ok, voglio dirvi solo l'ultimo e chiudiamo in 33 secondi. La manna nascosta. Sai che c'è una manna che è nascosta? In Isaia, capitolo 45, la Bibbia dice, stava parlando a Ciro. No, no, lascia così. Stava parlando Isaia, capitolo 45. Dio parla a Ciro. Non era, non faceva parte del popolo di Israele. Era un re. Non faceva parte del patto, ma essendo che era un re, Dio voleva parlare a lui per il bene del popolo. E Dio gli dice, io aprirò per te. Il buon tesoro, il cielo. Dio dice, io aprirò per te le porte che sono chiuse. Io per te spezzerò le sbarre di ferro. Io per te ti darò i tesori nascosti in luoghi tenebrosi. Sai il luogo dove hai messo i piedi tu? Questo, questo luogo dove tu hai messo i piedi, sai questo? Dove stai calpesto? Fai così. Il luogo dove tu hai messo i piedi era un luogo che nessuno voleva. Era un luogo nascosto. Tu entri da una porta, da una vetrata adesso, vedi due porte. Ma non era così. Tu vedi le luci colorate, vedi il palco, la stoffa blu, vedi lo schermo. Vedi l'illuminazione. Quando siamo entrati qua, io e mia moglie, ero un luogo tenebroso. Siamo arrivati in una giornata piovosa, in una giornata cupa, dove tutte le circostanze attorno a noi parlavano di negatività. Ma la negatività non era dentro di noi. Il clima non era favorevole. La porta d'ingresso non era favorevole per ospitare una chiesa. Per ospitare i figli di Dio. Non c'era la corrente elettrica. Non c'era l'impianto elettrico. Non c'erano i bagni. Non c'erano tre porte. Ce n'era una sola, eppure malconcia. C'era una cosa di buono che c'era tanta polvere. Era un luogo tenebroso. Era un tesoro nascosto in un luogo segreto, che per cinque anni il proprietario non aveva potuto affittare, perché Dio aveva messo il suo occhio, perché voleva salvare la tua vita, voleva salvare la vita di tante persone. E Dio farà lo stesso, c'è una manna nascosta. Il popolo di Israele, a volte noi diciamo, signore, ma perché sto attraversando questa difficoltà? E perché Dio ti sta allenando. Perché tu pensi che forse esci, arrivi nella chiesa e dici, wow, adesso Dio mi piaga i miei debiti. Wow, adesso il mio matrimonio è risanato. Wow, adesso i miei figli saranno salvati. E poi dice, ma come mai non succede niente di tutto questo? Perché Dio ti sta processando, ma nel processo c'è la provvidenza divina. Non quella materiale. Non quella che noi pensiamo. Dio porta il popolo di Israele. Abbiamo letto questa mattina, entrarono in Egitto 70, uscirono milioni di persone. Dio porta il popolo fuori dall'Egitto. E loro entrarono poveri, perché non avevano niente, 70 quando entrano là, ma quando uscirono dall'Egitto uscirono ricchi. E si trovarono nel deserto. E non c'era il Conad, né l'iperconad, né c'era il supermercato. Tutte le ricchezze, che facciamo? Nel deserto non c'è niente da comprare. Ma nel deserto Dio li stava processando. E Dio faceva piovere manna dal cielo giornalmente. Siccome loro avevano la mentalità, come dire, di accumulo, dice, aspetta, prendiamo un po' di manna e la conserviamo per domani. E quella manna diventava brutta. Perché Dio gli stava insegnando al popolo, cari miei, voi dovete dipendere da me. Io giornalmente, giorno dopo giorno, provvederò per te. Perché non sono un padrone, Dio dice, io sono un padre. Dio dice, non sono un padrone, un padrone pretende. Il tuo datore di lavoro ti paga, ma tu devi produrre. E' un padrone, ma Dio è padre. E lui si prende cura dei suoi figli, del suo popolo. E Dio giornalmente faceva scendere la manna dal cielo per nutrire il suo popolo. E c'è una manna nascosta per te. Ci sono grandi sogni che Dio ha per te. C'è una provvidenza soprannaturale che Dio ha per te. C'è un posto di lavoro che Dio ha per te, preparato. C'è una casa che Dio ha preparato per te. C'è un ufficio che Dio ha preparato per te. C'è una donna che Dio ha preparato per te. C'è un uomo che Dio ha preparato per te. Ci sono tesori nascosti in luoghi dove nessuno ci può arrivare, nessuno ci può pensare. E Dio ha messo la sua mano potente e riservata qua. Questo l'ho messo in parte per mio figlio. Questo l'ho messo in parte per i miei figli, per la mia chiesa. E nessuno ci può arrivare a prendere quello. Perché laddove Dio mette la sua mano, riesce a coprire tutto. E l'uomo non riesce a vedere niente. Il problema dove sta? Intimità. Onnipresenza, manifesta. O ti contenti dell'onnipresenza. Dio è dall'altro lato, Dio è qua, Dio è fuori, Dio è in ogni luogo. Però non godi della sua presenza. C'è la presenza manifesta. Wow, bellissimo. E tu vivi, tante volte viviamo della presenza manifesta. Oh, mi ricordo quando era a Palermo, quel canto che diceva mandami alle nazioni. E tutti alzavamo le mani, contavamo quel canto mandaci signore, mandaci signore alle nazioni perché vogliamo conquistare le nazioni. Quando è arrivato il momento di andare? Contestualmente sono arrivate le lacrime e le lamentele. E quando ci siamo ritrovati fuori pensavamo oh, che era bello allora, con tanti fratelli. Non c'era l'aria condizionata in quel luogo. C'erano i ventilatori che funzionavano solo quando li hanno comprati. c'erano i fratelli in quel locale, in quello scantinato di 700 metri quadrati, c'erano 1400 persone. Oh, che era bello d'estate a Palermo nel mese di agosto su 700 metri quadrati, 1400 persone che alzavano le mani per lodare il Signore. Che era bello che le persone cadevano sotto un'unzione senza chi si ministrava. Ma non per l'unzione di Dio, per l'unzione delle ascelle. Eravamo messi là e ricordavamo le cose, l'esperienza, la presenza di Dio manifestata, ma quella non neanche era la presenza di Dio manifestata. Era l'odore dei fratelli manifestato, quello che tenevano nascosto a un bel momento lo manifestavano. Vivavamo per le cose del passato, la presenza di Dio manifesta. Oh, bello. E Pietro, Giacomo e Giovanni scesero giù, Matteo, siamo saliti con Gesù, wow, è sceso Mosè lì, wow, la veste di Gesù sfolgorante. E Pietro su squiddose, l'ha dimenticato Pietro. Perché alla prima occasione si è dimenticata la presenza manifestata. Perché non saliva di livello. Gesù lo voleva portare in una presenza dimorante. ma lui si è raccontentato alla presenza manifesta. E non è sbagliato la presenza manifesta. È buono. Come è buono l'onnipresenza di Dio. Ma tu e Dio come popolo, come figli, dobbiamo vivere nella presenza. Dimorante. Significa che Dio è con me, dimora con me. Io dimoro con la presenza di Dio. Gesù diceva, se vedete me, state vedendo il Padre. Perché il Padre dimorava in Gesù e Gesù dimorava nel Padre. Il tuo datore di lavoro, quando vede te, deve vedere Gesù. I tuoi clienti, quando vedono te, devono vedere Gesù. Nella tua scuola, quando guardano te, devono vedere Gesù. Quando tu canti, le persone, quando sei in mezzo alla strada, devono vedere Gesù. Così è. Quando vedi l'autobus, guarda, Gesù sta guidando l'autobus. Le persone devono vedere Gesù in noi. La presenza dimorante. Ma questo qua, quando parla, che sapienza, che intelligenza che c'ha, che pace che trasmette. Direzione. Quanto mi incoraggia. Quanto mi piace stare con questa persona. Voi mi piace stare con questa persona perché c'è la presenza di Dio dimorante in noi. Amen. Già l'avete dimenticato, ricomincio. Onnipresenza, manifesta, dimorante. Gesù vuole dimorare, stare continuamente. Quando le persone entreranno, dice, wow. Cosa c'è qua? C'è la presenza di Dio dimorante. E questa mattina, mentre stavo meditando, lo ripeto, lo Spirito Santo mi ha riportato a quello che il profeta Asfursh aveva profetizzato. Lo Spirito Santo visiterà. Detto, Signore, no, no, c'è un livello ancora di più. Dimora, non visita. Voglio che tu dimori, Spirito Santo, e non che tu visiti, manifesti la tua presenza. Fai una visita e te ne vai. Perché quelli che verranno dopo, noi lo possiamo raccontare, ma quelli che verranno dopo devono vivere, entrare sotto questo manto. Amen. Vogliamo fare un applauso a Gesù questa mattina? Alleluia, Gesù. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chiudere con un canto? Dio è buono e la sua benignità dure in eterno.